E loro che ieri sera si sono presentate in giacca, cravatta, cappello, baffi, sono l'altra variante. Sono europarlamentari e vogliono una donna per uno dei due ruoli. Chiedono poi al presidente della Commissione Barroso che tra i 27 commissari che saranno votati entro l'anno ci siano almeno 8 donne, almeno lo stesso numero di adesso, dicono minacciando di non dare la fiducia. Insomma ci sono molte variabili e quella che ci attende potrebbe essere una lunga notte. E' Caterina Ashton il ministro degli esteri dell'Unione Europea, il candidato italiano Massimo D'Alema dunque non ce l'ha fatta. Ci sono molte reazioni in Europa e in Italia. Iniziamo ad andare a vedere a Bruxelles con il nostro corrispondente Marilena Sattanino quali sono le reazioni del giorno dopo. Buongiorno Marilena. Buongiorno a voi a Bruxelles. Le reazioni del giorno dopo non sono certo entusiastiche. I giornali europei parlano di una scelta di basso profilo fatta più per salvaguardare l'unità e non fare ombra ai grandi che per dare una solida visibilità all'Europa sulla scena mondiale. Le critiche non si riferiscono tanto al primo presidente del Consiglio, lo vedete subito dopo la nomina al premier belga Van Rompuy, abile negoziatore europeista convinto di un paese fondatore. I belgi sono francamente dispiaciuti di dover rinunciare al loro premier, quanto alla britannica. Catherine Ashton, rappresentante della politica estera con competenze allargate, più conosciuta appunto a Bruxelles come commissaria al commercio e totalmente priva di esperienza diplomatica e sconcerta francamente il commento di Gordon Brown. Farà gli interessi della Gran Bretagna, non è questo lo spirito del Trattato di Lisbona e dell'Europa. L'abbandono della candidatura alla presidenza di Tony Blair e quindi la scelta di Brown di prendere il secondo posto in palio indicando l'Ashton, una donna, ha portato i leader europei socialisti ad approvare la scelta facendo cadere la candidatura di Massimo D'Alema, indicato dal gruppo parlamentare socialista e che avrebbe avuto certamente un peso molto maggiore essendo un ex presidente del Consiglio e un ex ministro degli esteri con ben maggiore prestigio.